Musica Continua il nostro tour all'interno del Campus Party Italia, la prima edizione, ci fermiamo subito vicino a... Al disagio, buongiorno, ciao Che chiami? Lubna Lubna, da dove vieni? Vengo da Firenze Cosa studi? Scienze umanistiche per la comunicazione Cosa ti aspetti da questa prima edizione italiana di Campus Party Italia? In realtà io sono pro, non farmi aspettative per essere soddisfatta comunque, bene o male, non si sa però... Non lo so, sarà un'esperienza molto molto interessante Hai già individuato qualche pane, l'ospite che ti interesserebbe conoscere o qualche tema ad approfondire? Allora, uno dei temi è quello delle start-up E ho visto che ci sono molti eventi dedicati e questo è molto interessante per me, è uno dei motivi per cui sono venuta Poi la parte della tecnologia e creativity Sì, ci sono molte cose, in realtà ho anche messo molti eventi che sono tutti nello stesso orario e non so cosa scegliere Dopo che sistemerai le tue cose qui in tenda, qual è la prima cosa che farai? Non lo so Andiamo a fare un giro, sono con degli altri amici e andremo a fare un giro a vedere un po' Iniziare ad orientarci qua dentro In bocca al lupo, ci vediamo presto, ti diamo appuntamento stasera, faremo dirette Facebook Live qui dal Campus Dormiremo anche noi qui, quindi probabilmente ci rivedremo Buon Campus Ciao, buon lavoro ragazzi